Grande amministrazione del comune di Bargagli, nuovo pulmino, 28 posti per i ragazzini che sono sparsi nel territorio di questo comune. E poi ampliamento della scuola con aule per la musica, nuovi strumenti, grande entusiasmo. Oggi i cittadini si riconciliano un po' con la politica. La quinta inaugurazione per le scuole del comune in questi anni. E lavorare per i ragazzi vuol dire lavorare per la comunità e quindi per tutti noi. Complimenti, siamo contenti di aver partecipato anche oggi a una festa nel nostro territorio con i bambini.